bella tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Montazio15 e oggi ragazzi siamo tornati su fortnite insieme al nostro amico leolino e oggi faremo la nuova modalità scat dell'orda con tutti gli zombie e questo è lo shop di oggi ci sono ste skin che erano sono diciamo nuove c'è questa qua quale è il piccone ah si più meno ieri raga era il mio compleanno e niente e niente vabbè raga spero che il video vi piaccia ci vediamo in ma è tipo maletà vero trovo solo l'air però infatti 800 punti il lecce questo è un po' di qua ieri questa è un po' di qui c'è qua Ma perchè? Eccoli, eccoli! Mi devi dare una mano! Sto arrivando! Ma ne è quella da riprendere? Io rompo lo spawn Leo! Dai, molto! E qui diamanti che hanno? Chess d'oro! Lo apri! Tu no! Lo stereo! No no, faccio questa! Oh yeah! Te la ricordi? E beh! Vai! Lo stereo è un montaglio di ispeta che può essere utile! Vai! Grazie! Easy boy! Con questa spammi che c'è una meraviglia! E beh! C'è una due! Tu quanti quel PR hai? 292 Tu? Non c'è una minisafe! Nooo! 300 Ma non c'è un'impesta! È la mia! Quanti potevo capire? 3600 3600 Cerca le fai gli headshot! Ma il vamba fucile! Dove è il vamba? Cazzo! Cazzo! No! 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 Io ho attaccato la testa! Quei due sanno invece di... Aprimaci un po' le cassa munizioni! vai usò lancia radio c'è l'antrenato vai oddio ma l'ha rimbalzata addosso ma perchè mai avrà rimbalzata addosso la canata no vabbè non c'è l'antrenato non c'è l'antrenato cazzo mi ha tirato ma perchè ne tiri le puzzle enti no è nemmorso con le puzzle enti mi serve la su tiratela tiratela eh ma dove è no 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 non c'è l'antrenato non c'è l'antrenato non c'è l'antrenato non c'è l'antrenato no 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 c'è l'antrenato mi chilo le granate io con la torretta con la torretta eh vai io vado con la torretta perfetto ah il boss eccolo si boss oddio io devo 40 cazzo 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 tommah tommah fa culo oddio mi suizzai da me cazzo 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 mi serve il naso loco tommah tommah mi aiuta tantissimo io sento sto distruggi la da dietro buona così da dietro è buonissimo no cazzo 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 come sono mortissimo si manera sul bravo bravo droppata bravo bravo SI BOSS! SI BOSS! Vai morta! Vai! È bella perchè è bella! No! Toma la mora! Guarda quanti hanno fila! Dov'è il boss? Oddio! Oddio! Toma! 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 Toma lo devi uccidere! Adesso sto provando! Devi uccidere il boss, devi uccidere il boss! SI! Ho vinto? Sì! Ti ho armato un po' capito Ah, quanti punti vediamo? 15.000 Dai, 15.000 solo io ho fatto Io ne ho fatti 24.000 Però... Tu ne ho fatti 19.000 E io ne ho fatti 15.000 Ma ce li vanno punti esperienza? Vediamo Perché il quadrato per bene non c'era Vabbè raga Spero che il video vi sia piaciuto Mettetela qui qui che bella! Ehm... Ehm...